Mano com'è la tua battuta? ripetila costardo dai com'è? Ramona com'è la tua battuta? non lo so la mia è? allora se questa è di Mano questa è di Anna questa è di... questa è di cosa? è di Ramo questa è di Acopo questa è la tua che culo dei cura bacca idiota cura bacca cura betty auto cura betty auto cura betty auto cura betty auto ci possiamo portarci psycho ciao cura betty auto vai Anna there be l'arita uga poika 46 usate uga 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 cosa da me? è vista? ma cosa è? registrato? balanzi dai già io già in fondo io già in fondo in fondo significa una parte ah, Conan con la mano ho trovato Jay-he cura è una virgola è una virgola ghe ghe ikura baka ghe ikura baka baka dai su è una più base dell'altro ghe ikura baki ayumi ikura daiski quando tu muoi fai tabete ayumi io ghe ikura baka di in ogni ghe ikura baka i khan ghe ikura ghe ikura baka devo dirlo io, figlia che bello però ah sta è finito? dove è andata? aspettate che ancora qui c'è una foto qua si che di me ma scusa poi ora non ci sono cosa dobbiamo fare ora? basta noi ripetiamo ok 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 qui ah